Paura della forbice perché siamo ultimi, il Prato è ultimo e c'è la forbice che incombe. Io non ho paura di nulla, sinceramente. La forbice, sono discorsi di classifica, io devo soltanto allenare, cercare di farlo il meglio possibile, ribadisco il concetto, io non ho paura di nulla, io alleno questi ragazzi con intensità dal martedì alla domenica e credo che in campo, a dei risultati, presentiamo sempre una squadra di calcio con idee ben precise. Pasquale Catalano non ha paura di niente, mentre la classifica del suo Prato comincia davvero a fare paura. Ultimo posto in gradatoria e in cubo forbice, otto punti di distacco tra qualt'ultima e ultima che incombe. Momento davvero difficile per il Prato. Nel derby con il Ponte d'Era sul campo neutro di Ponte d'Era contro una squadra diretta concorrente alla salvezza, il match termina con l'affermazione della compagine allenata da Maraia per 1-0. Primo tempo equilibrato, condizionato dal terreno di gioco al limite della praticabilità. In campo tanta vivacità ma pochi pericoli per i due portieri. Alastaris scade Guantoni su Grassi, mentre Contini replica con reattività su Marzorati. Nella ripresa la partita rimane equilibrata. Il Ponte d'Era passa al sedicesimo con un'incorsione centrale di Spinozzi che non lascia scampo ad Alastra in uscita. La scuola di Maraia riesce a gestire bene il vantaggio al cospetto di un Prato con le polveri bagnate in avanti e in questo caso la pioggia non c'entra niente. Nemmeno l'espulsione di Frare per doppia munizione a 8 minuti dal termine riesce a cambiare le sorti della partita. Anzi nel finale il Ponte d'Era con Spinozzi sbaglia la rete del 2-0. Vince il giovane Garibaldino Pontedera contro il giovane ma inconcludente Prato. Una battuta d'arresto che pesa come un macigno.